Per la 32esima giornata di campionato allo stadio comunale Pasqualino Ferrante, il Matesi attende il Termoli. I Matesini sono reduci dalla sconfitta rimediata contro il Riccione per 2-0. La situazione resta problematica per la squadra campana, al momento ultima in classifica, e dunque attualmente retrocessa in eccellenza. La speranza di poter disputare play-out è comunque viva, visto anche il difficile posizionamento del vasto Girardi, ad un solo punto. La squadra di Mister Fevola è fiduciosa e spera in un risultato positivo. Quella di domani per la truppa verde-oro sarà una gara complicata contro il Termoli, attualmente al decimo posto in classifica. La squadra adriatica ha fatto un notevole balzo in avanti, galvanizzata dalle buone ultime uscite di campionato. Per quanto riguarda la formazione, in porta Rinaldini, difesa composta da Filosa, Gaiardini e Cassese. Al centro del campo, Langellotti, Ricamato, Russo e Lesi. Attacco composto da Passewe, D'Andrea e Manfrellotti. Con fischio d'inizio alle ore 15, FC Matese e Termoli sarà arbitrata da Luigi Lacerenza della sezione di Barletta, assistito da Leonardo Grimaldi di Bari e Giuseppe Dell'Aquila di Barletta.